Il generale credo che sia stato impegnato all'estero, quindi abbiamo avuto qualche incontro con la struttura commissariale, ma il generale è appunto dal 26 di settembre che non tornava nel nostro territorio, per cui è importante. Il suo impegno era quello di vedere tutti i territori colpiti dall'alluvione, quindi oggi è qua a proseguire questo percorso di conoscenza degli ambiti colpiti.